Con cosa stiamo riprendendo? Vediamo un po' se indorinate, scrivetelo nei commenti sotto se c'avete voglia. Abbiamo fatto una bella sfacchinata per andare a prendere questo prodottino, qui potrebbe sembrare un telefono ma non è, mette l'allegria! E' un oggettino piccolo, molto stabilizzato, poi lo vedremo se è molto stabilizzato visto le buche. Va bene, è un oggetto a 360 gradi, farò una piccolissima recensione anche se poi in realtà è pieno di recensioni di questo prodottino cinese, in parte come la stragrande maggioranza dei prodotti di fibrologia, di uso e consumo classico, e niente, vedremo un po' poi come andrà. In questo momento sto a 4K, 30 frame, e ovviamente stiamo usando solo la luce dello specchietto del passeggero, vedremo poi come lavorerà. Pietro, vediamo la stazione di... C'era un periodo? Riccardo, Reggio Emilia? Reggio Emilia? Sembra. Quindi, abbiamo ancora un'oretta e mezzo di viaggio da fare, e niente, mettete mi piace, iscrivetevi, insomma, la solita è al solo, e vediamo un po' se vi riprendiamo un po' con questo canale a portare qualche argomento carino, anche un po' più simpatico e allegro. Vi informo che ci saranno prossimamente due video, in gentile concessione dei due miei amici, e speriamo che non vi possano interessare, e speriamo di poterli portare al prima possibile. Vi saluto, alla prossima, ciao! Buon gira! Ciao! Buon gira! Buon gira! Buon gira! Buon gira!